Ciao a tutti e benvenuti su TechGaming. Se avete aggiornato Windows 10, allora avrete sicuramente in memoria i file della precedente versione. File che vi permettono di tornare indietro in caso di problemi, ma che occupano molto spazio sui vostri hard disk o SSD. In questo video vi spiegherò come cancellare i file delle precedenti versioni di Windows 10 per liberare spazio sugli hard disk. Naturalmente fare questa procedura vi comporterà l'impossibilità di tornare indietro in caso di problemi. Quindi cancellate i file solo se le precedenti versioni di Windows sono obsolete e non avete bisogno di tornare indietro. Quindi andate su Start, digitate Pulizia Disco. Selezionate l'hard disk dove è presente il sistema operativo e cliccate su OK. Cliccate su Pulizia, File di sistema. Cliccate su OK. Attendete. Adesso cliccate su Pulizia di Windows Update e File di registro dell'aggiornamento di Windows 10. Ora nel mio caso il peso è irrisorio, sono solo 147 MB, perché lo faccio sempre. Ma se voi non lo fate mai potrebbe capitarvi di liberare fino e oltre 10 GB di dati. Naturalmente ci tengo nuovamente a precisare che fare questa procedura libera lo spazio sui vostri hard disk, ma vi impedirà di tornare indietro in caso di problemi. Se questo breve video vi è servito cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale e non esitate a lasciare un commento per qualsiasi domanda.